I carabinieri di Reggio Calabria hanno eseguito ordinanze di custodia cautelare e personale nei confronti di 5 persone di età compresa tra i 35 e i 65 anni, con precedenti in materia ambientale ed associazione tipo mafioso, titolari e dipendenti di un'azienda specializzata in attività di demolizione e movimento terra. Gli stessi sono ritenuti responsabili di far parte di un'associazione finalizzata al traffico illecito di rifiuti, disastro e inquinamento ambientale, attività di gestione di rifiuti non autorizzata ed occupazione abusiva del suolo pubblico. L'operazione rappresenta l'epilogo di un'articolata attività d'indagine iniziata a gennaio e conclusa ad aprile del 2023. Condotta dalla stazione di Rosario Valanidi della Compagnia di Reggio Calabria e coordinata dal locale Procure della Repubblica, guidata dal procuratore Giovanni Bombardieri, che ha permesso di interrompere una serie di reati tra i più pericolosi per l'ambiente e l'incolumità pubblica. Gli accertamenti dei militari sono iniziati a seguito di alcuni sopralluocchi nei quali veniva riscontrato lo sfruttamento delittuoso del torrente Valanidi da parte della società Edile Inquisita. In particolare, la complessa e approfondita attività di indagine svolta dai carabinieri è emersa all'esistenza di un vero e proprio sodalizio criminale dedico alla Commissione di Delitti in Materia Ambientale. Le indagini sono svolte in natura tradizionale e tecnica e hanno consentito di verificare come l'azienda, In essenza delle previste concessioni e autorizzazioni ambientali, riceveva e trasportava abusivamente all'interno del proprio cantiere, anche utilizzando false intestazioni, ingenti e quantitativi di inerti prevenienti da attività ed eliterzi, così da ottenere illeciti profitti, eludendo la prevista tracciabilità dall'origine, natura e destinazione. È stato accertato che il traffico illecito veniva svolto utilizzando false attestazioni, mediante le quali mezzi pesanti e aziendali con plurime operazioni di scarico sversavano l'utilizzo di mezzi pesanti reiteratamente e spregiudicatamente all'interno del greto del torrente Valanidi, ingenti quantità di rifiuti speciali. È stato stimato che all'interno della fiumara sono stati legitamente smaltiti oltre 5.000 tonnellate di rifiuti, così il torrente ha subito un disastro ambientale a causa di queste forme di smaltimento. Il materiale depositato ha creato anche un forte pregiudizio al naturale decorso delle acque. Questo accumulo così è stato un importante e pericoloso amplificatore della pericolosa inondazione in una zona già classificata a rischio idrogeologico, con possibilità di effetti devastanti per oltre 83 nuclei familiari che risiedono nella Diecense. I carabinieri hanno rilevato che storicamente il 22 ottobre del 1953 era stata colpita da un'esondazione la zona dal torrente e ha provocato la morte di 44 persone tra la popolazione locale. È stato sequestrato con un atto preventivo l'intero patrimonio aziendale comprensivo di conti correnti e cuodi sociali, autocarri, mezzi d'opera ed autovetture di lusso. I stessi 5 uomini che sono stati destinatari delle ordinanze di custodia cautelare in passato avevano già subito provvedimenti antimafia come la confisca di società che operano nello stesso settore riconducibili alle cosche locali di Andrangheta di Reggio.